Benvenuti a Vieste La cattedrale, la chiesa matrice di Vieste Il castello La chiesa di San Francesco e anche punta a San Francesco l'estremità di Vieste La chiesa di San Francesco La chiesa di Vieste è la scalinata dell'amore Qui la leggenda narra che se le fai tenendo stretto la mano della tua amata Sarà per sempre la tua amata Ecco, io sto da su Vabbè, lasciamo stare Pizzomuno e Cristalda erano due giovani amanti Che si amavano talmente tanto che le sirene si sono arrabbiate Quindi le sirene hanno detto Beh, Pizzomuno, vieni con me Lui no, no, no e no Quelli si sono arrabbiate E hanno rapito a Cristalda e hanno pietrificato a Pizzomuno Pizzomuno ci è stato talmente male Che il Dio del mare ha detto me Vabbè, da almeno una volta Ogni cent'anni Vi potete rivedere Vabbè, da almeno una volta Vabbè, da almeno una volta